Buongiorno a tutti, negli ultimi giorni, negli ultimi video abbiamo spesso recensito volumi del periodo 45, 46, 47 delle edizioni Rizzoli, memorie di generali, di esponenti di un certo peso politico strategico della seconda guerra mondiale in questa collana di Volumi Rossi, abbiamo parlato di Visconti Prasca, abbiamo parlato di Fava Grossa, questa volta parliamo di Raffaele Cadorna, diciamo che solleviamo un pochetto rispetto ai due precedenti generali, Raffaele Cadorna, non devo stare qui a presentarlo, un mostro sacro dell'esercito italiano, figlio di Luigi Cadorna, nipote di Raffaele Cadorna Senior, una famiglia che è l'esercito, che è la storia dell'esercito, una famiglia tre generazioni almeno che sono stati la storia dell'esercito e Raffaele Cadorna Junior rappresenta secondo me l'elemento più importante, più nobile di una certa ufficialità all'interno di quella tradizione piemontese ma non solo che ha reso importante e grande l'esercito italiano. Raffaele Cadorna è nato nel 1889, ha partecipato alla guerra di Libia, alla prima guerra mondiale, ha tutta una serie di esperienze e di fortificazioni del proprio carattere e della propria professionalità. Arrivò all'esperienza della seconda guerra mondiale con veramente un bagaglio importante che lo portò ad assumersi delle responsabilità di una importanza notevole e che lo hanno appunto all'indomani nel 1945 sostanzialmente portato alla nomina a capo di stato maggiore dell'esercito. fu l'ultimo capo di stato maggiore del reggio esercito nel Regno d'Italia e il primo della Repubblica Italiana e questo secondo me va a estremo merito di un uomo che ha saputo anteporre il bene dello Stato, il bene del proprio paese a possibili sue ambizioni, attività eccetera, quindi un uomo che ha sicuramente dato una grandissima testimonianza con la lotta al nord d'Italia, con il tentativo in tutti i modi di liberare l'Italia da quella vergognosa e orrenda occupazione nazifascista. Il volume di cui vi parlo oggi è La riscossa dal 25 luglio alla liberazione. Rizzoli, editore Raffaele Catorna. Allora, questo volume, questa è la prima edizione dicembre 48, quindi siamo già un po' in là con gli anni rispetto ai precedenti che stavamo parlando intorno al 45-46. Qui ovviamente è una memoria già consolidata, già sono passati ben tre anni abbondanti, tre anni e mezzo dalla fine della guerra. Raffaele Catorna è sostanzialmente ormai un pensionato, può parlare liberamente e può dare la sua testimonianza anche in contrapposizione a altre versioni sicuramente meno onorevoli di quella sua. Io inizierei con la lettura della seconda di copertina. Allora, il volume, ve lo dico subito, io vi leggerò oggi la seconda di copertina, poi il volume è diviso in tre parti, la difesa di Roma, Roma e in Alta Italia. Ciascuna delle tre parti ha una premessa, io vi leggerò le tre premesse e poi vi leggerò le conclusioni finali. Secondo me è una documentazione di grande importanza, non solo per l'uomo che ha scritto questo volume, ma anche per inquadrarlo all'interno di un contesto particolarmente difficile, perché poi stiamo parlando veramente di mesi veramente tragici e avendo contestualmente avuto modo di leggere il diario di Roatta, altre esperienze più o meno lusinghiere, forse meno lusinghiere che più lusinghiere, sicuramente con questo volume alziamo veramente di molto la qualità del tipo di racconto, di memoria che ci viene espressa. Il generale Raffaele Catorna, comandante di una divisione dislocata nei dintorni di Roma, prese parte alle sfortunate, seppur eroiche vicende che precedettero la presa di Roma da parte delle truppe germaniche nel settembre 1943. All'indomani di quelle giornate egli prende contatto con il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale per coordinare l'azione militare di questo, con quella delle truppe operanti nel sud d'Italia e delle formazioni partigiane che cominciavano ad organizzarsi nel nord. A questo pericoloso preambolo fa seguito l'incarico ufficiale che gli affida il nuovo governo di Roma, in accordo con il comando alleato, di comandante del Corpo Volontari della Libertà. Con sobrietà, con imparzialità, con sincerità a scevra di veli, Catorna si narra le vicende eroiche degli uomini della montagna, le difficoltà in mezzo alle quali si svolge la sua azione di comando, la storia veridica dei successi e degli insuccessi, fino alla vittoriosa conclusione. Un racconto di gesta militari che si legge come la narrazione di un'avventura cui accrescono valore storico e umano i numerosi e sensazionali documenti pubblicati in appendice. Sì, effettivamente poi alla fine sono una serie di documenti che varrebbero la pena solo leggere quelli, però il tempo a nostra disposizione non è tantissimo, anche perché appunto se avete modo di recuperarlo in biblioteca, ne esistono molte copie in varie biblioteche d'Italia, quindi vi suggerisco se avete piacere di andare proprio a vedere, ma magari se ci sarà occasione vi leggerò in altri video alcuni di questi importanti documenti allegati. Allora questa è la premessa della parte prima, la difesa di Roma. Mi sono deciso a rompere gli ozzi campagnoli del pensionato e a scrivere la narrazione dei fatti ai quali ho preso parte nel tragico periodo 43-45, per offrire il mio sia pur modesto contributo a quelli che scriveranno la storia di quel periodo fortunoso. Sono sempre stato convinto che la storia è realmente maestra della vita, quando sia scritta con obiettività, cioè senza retorica e senza scopi propagandistici. Sono anche persuaso che se avessimo meglio scritto e meglio studiato la recente storia d'Italia, per esempio quella del conflitto 15-18, avremmo evitato molti errori che ci furono fatali. Dice Tacito, iniquissima ec bellorum condicio est, prospera omnes ibi vindicant, adversa uni imputantur. Queste parole sono attuali anche oggi. Sono infatti persuaso che la serena indagine storica rileverà che errori ed omissioni ne commettemmo tutti noi italiani. Cercherò quindi di essere obiettivo quanto umanamente possibile e a tale scopo mi riconosco uno stato d'animo particolarmente favorevole, non avendo nulla, assolutamente nulla da rivendicare. I fatti narrati furono diligentemente e non da me solo vagliati, devono quindi ritenersi per lo meno nelle linee essenziali storicamente esatti. I giudizi dei quali non potevo talvolta prescindere sono evidentemente personali. Le critiche non intendono anticipare un giudizio storico per il quale non mi sento autorizzato e verso chi ebbe responsabilità maggiori delle mie, ma sereno invito alla critica allo scopo di trarne ammaestramento. Ho iniziato la narrazione con i fatti relativi alla difesa o alla mancata difesa di Roma, dei quali fui compartecipe come comandante della divisione Ariete, sia perché quei fatti furono e sono oggetto di violenta polemica e quindi soggetti a interessati travisamenti, sia soprattutto come omaggio ai caduti della divisione che furono certamente fra i primi e più meritori olocausti della guerra di liberazione. Nel descrivere questo episodio uno di tanti che contribuirono alla formazione della frana che ha inghiottito l'esercito italiano sono necessariamente sceso a particolari apparentemente di scarso rilievo. Ciò mi è sembrato necessario per agevolare la comprensione dell'ambiente anche da parte di lettori che non hanno consuetudine con la nostra vita militare. Allora poi passiamo alla premessa della seconda parte legata a Roma. Il 15 giugno 1945 si scioglieva il comando partigiano dell'Alta Italia e io prendevo amichevolmente congedo dai colleghi che avevano con me condiviso le ansie e le speranze di quel periodo fortunoso. Reputando di avere onorevolmente compiuto il mio ciclo, sapendo per esperienza che all'indomani dei grandi periodi storici si scatenano inevitabilmente i fermenti da lungo tempo compressi, avevo intenzione di ritirarmi nella guiete del mio lago e dedicare il mio tempo a raccogliere i ricordi dei miei antenati per consegnarli alla serenità della storia. Fui invece a mia insaputa nominato capo di Stato Maggiore dell'esercito e non mi parve opportuno rifiutare la mia collaborazione nel critico momento in cui le poche forze dell'esercito regolare ricostituite al sud sotto legge degli alleati, rioccupavano le regioni dell'Alta Italia, riaffermando così una rinnovata legalità. Si trattava di risollevare il prestigio dell'esercito gravemente compromesso dopo la crisi del settembre 1943. Si trattava di fondere in un unico organismo nazionale elementi che per aver subito sorte differente erano variamente influenzati. Gli uni, retoci della prigionia nei campi alleati o in quelli ben più duri della Germania, altri più fortunati, i quali avevano fatto parte dell'esercito di liberazione, altri infine attivi nelle file partigiane. A questo si aggiungevano i molti che per cause varie avevano trascorso quel critico periodo a casa loro. Assorbito dallo studio di complessi problemi di alto interesse nazionale, ritenni più che mai lontano il tempo nel quale convenisse raccogliere e presentare al pubblico i miei ricordi personali. La sorte volle altrimenti. Ritornato nell'ambita quiete del mio lago, nel divampare delle polemiche rese più vive dall'interesse del pubblico e dalla sprezza delle parole, reputo utile dare dei fatti ai quali ho partecipato, una versione quanto più possibile serena e obiettiva. Il fatto di aver preso parte, sia pure in varia misura, alla vita clandestina di Roma e dell'Alta Italia mi consente sufficiente visione d'assieme e varietà di tempi. Così che pur non possedendo una completa documentazione alcune mie carte furono bruciate per ragioni di sicurezza, altre più numerose e reputatamente prese dai tedeschi, sono in grado di portare qualche utile contributo alla storica ricostruzione di quei tempi. I miei giudizi sono frutto della mia assoluta indipendenza e della mia posizione, quella di un ufficiale che pur fuori dai ranghi si sforza di servire in piena dedizione, in umiltà, il suo paese. Essi presuppongono, non diminuiscono la mia stima nei riguardi di uomini con i quali ho collaborato, uomini coraggiosi, devoti alla causa che servivano e che in quel triste periodo della nostra vita nazionale tennero alto il nome dell'Italia. Terza premessa, più breve, quella riferita all'Inalta Italia. La narrazione che segue non ha affatto la pretesa di essere una illustrazione della guerra partigiana, sia pure limitata al periodo di tempo da me trascorso in Alta Italia. A tale scopo mi mancano una seria documentazione, lo scorcio di tempo necessario per una veduta d'assieme e probabilmente anche l'alena. Sullo svolgimento della guerra partigiana esiste già una notevole bibliografia. Altro materiale viene raccolto ed è sperabile potrà essere elaborato dall'archivio storico creato presso l'ufficio stralcio del Comando Generale, che dalla Fondazione del Corpo Volontario di Libertà dovrebbe ricevere i mezzi necessari per assolvere il suo compito. Io, valendomi dei ricordi e del diario personale, ho cercato di ritrarre con la massima possibile obiettività gli avvenimenti occorsi attorno a me e gli stati d'animo particolari del momento. Così facendo ritengo di assolvere nel modo migliore al mio obbligo verso l'indagine storica e dimostrare il mio fraterno attaccamento ai valorosi compagni di lotta. L'aspetto più interessante di queste tre premesse sono senza dubbio il ricorrente richiamo a gregari e collaboratori che in qualche modo hanno reso possibile quel grandissimo sforzo morale e militare che fu la guerra di liberazione. Perché se no poi non ci dobbiamo mai dimenticare, perché se no troviamo sempre persone che vanno a sbeffeggiare, a minimizzare il grande impegno civile e soprattutto militare da parte delle formazioni clandestine e quelle regolari nella liberazione effettiva del nostro paese. Perché poi alla fine il 25 aprile deve essere, come spesso si dice, la festa di tutti, perché deve essere la festa di tutti, la festa della liberazione. Se non ci fosse stata quella liberazione, oggi non potremmo parlare, non potremmo comunicare, non potremmo neppure lamentarci di non voler festeggiare la festa del 25 aprile. Quindi a me sembra veramente da idioti, sono degli idioti coloro che non vogliono festeggiare il 25 aprile e dicono che il 25 aprile non vale nulla. No, vale qualcosa, vale la possibilità da parte anche di voi idioti di dire che il 25 aprile non serve a nulla e non va festeggiato. Permettetemi questo sfogo, ma secondo me è veramente, dovendo recensire un volume così autorevole di una persona così autorevole come Raffaele Catorna, ci sta anche il fatto di dire che coloro che non vogliono festeggiare il 25 aprile sono degli idioti. Ecco, l'ho detto e l'ho ripetuto. Conclusione, conclusione al volume. Sono così giunto al termine della mia narrazione e mi corre l'obbligo di ricordare al lettore quanto scrissi nelle prime pagine, trattarsi di un semplice contributo alla storia, non della storia, in maiuscola, della guerra partigiana. Chiedo quindi venia delle inesattezze nelle quali posso essere in corso per insufficiente o incompleta documentazione, non certo per venir meno a doverosa obiettività. Fu lungamente incerto sulla opportunità di scrivere, ora su argomenti tanto importanti quanto di fresca memoria. Mi son deciso, sia per la pressione di tanti amici che per la considerazione che l'attendere avrebbe insidiato la spontaneità dei ricordi miei e del lettore esposto alla influenza di versioni non sempre controllabili, storicamente. Volendo ora fare un bilancio e la lotta partigiana per la liberazione, si può iscrivere al suo attivo. Essa ha rialzato il morale del paese dopo la catastrofe dell'8 settembre, ridonandogli fiducia in se stesso. Ha dato un contenuto più efficace e concreto alla nostra posizione di cobelligeranti. È noto che gli alleati limitarono strettamente le nostre possibilità di ricostruire forze regolari da immettere nella lotta di liberazione. Nella nostra completa dipendenza dagli alleati anche per i formenti ci poteva consentire di fare di più. La lotta partigiana divenne gradualmente il naturale complemento dello sforzo militare alleato, soprattutto con la firma degli accordi col generale Wilson, che le conferirono riconoscimento ufficiale. La partecipazione in massa del popolo italiano nella lotta per la liberazione fu una delle carte, la migliore a disposizione del nostro paese nelle trattative per la conclusione della pace. Questo è importante, questo è stato scritto nel 1948, la conferenza della pace che era stata nel febbraio del 1947. Ancora abbiamo delle persone che si lagnano per la maldestra conclusione di quel trattato. Beh, se non ci fosse stata la quella di liberazione non avremmo avuto neanche quello, ci avrebbero tolto molto di più. E seppure non sufficientemente sfruttata, essa non mancò di dare i suoi risultati. Ecco, lo dice anche Catorna. Se tuttavia le clausole di pace ci furono tanto sfavorevoli, ciò si doveva all'accordo intervenuto unico tra gli alleati ai nostri danni, forse nella speranza di sfuggire ad altre e incombenti gravi disparità di vedute e di interesse. Era una specie di tregua prima della tempesta, ma del pari fu a tutti chiaro che le clausole stabilite in quel momento non avevano carattere eterno, poiché una revisione delle stesse era palesemente indispensabile e sarebbe venuta quanto prima, se addirittura non era già in corso. La nostra posizione fu comunque sempre ben differente da quella della Germania e non ci è mancato l'aiuto morale in materia degli alleati per il superamento del periodo di transizione dalla guerra alla pace. Questo va ripetuto tutti i giorni a tutti coloro che si lamentano del 25 aprile, a tutti coloro che si lamentano, dello sforzo congiunto delle unità italiane, clandestine e ufficiali e organiche del Regno del Sud al fianco degli alleati. La lotta partigiana ha notevolmente concorso allo sforzo militare alleato sul nostro fronte. Non voglio dilungarmi su questo argomento, già troppo trattato in sede propagandistica e ricordare l'importanza delle forze nemiche impegnate, le perdite inflitte, i sabotaggi compiuti e tutti coloro che ancora dicono ma lì avete fatto, ha messo le bombe eccetera. Preferisco citare una specie di canzone divenuta popolare tra le truppe germaniche che descrive l'atmosfera di terrore in cui le stesse dovettero vivere per le continue minacce di guerriglia nelle retrovie. Di tale canzone che trovai nella cartella della evidenza la sera del 26 aprile in prefettura non ho più il testo completo ma solo stralci che lessi in una conferenza sulla resistenza tenuta l'anno scorso a Ginevra. Il testo completo illustrava in termini tutt'altro che ottimistici la vita in Italia del soldato tedesco durante il tempo della Repubblica Sociale. Questa conferma che le attività clandestine aiutarono lo sforzo militare alleato furono necessarie per la liberazione d'Italia dove il Duce governa senza paese e senza potenza dove i partigiani non danno pace dove la notte in ogni angolo si spara e si estrepita dove ogni notte ci saltano le rotaie dove il treno salta per aria dove le lettere ci arrivano dopo molte settimane. Non è questa la nostra patria eppure perseveriamo dalle foci del Tevere fino alle Alpi. Al diavolo questo maledetto paese tutti i tedeschi gridano in coro non lasciarci qua Führer prendici in patria nel Reich. Ecco questa mal volontà da parte dei tedeschi di poter stare ancora in Italia dipendeva anche e soprattutto dall'attività clandestina della resistenza italiana contro l'invasore, contro i nazi fascisti. Poi tra le cose buone che ha fatto la resistenza ha limitato i danni dei bombardamenti contenendoli il più possibile sugli obiettivi militari, quali le vie di comunicazione nel tentativo di risparmiare la popolazione che nella sua stragrande maggioranza simpatizzava per gli alleati. Ha in un certa misura impedito la distruzione degli impianti industriali dell'Alta Italia da parte dei tedeschi. Al proposito vi è stata polemica poiché a contestare tale merito dei partigiani insorsero coloro che in base a lunghe trattative avevano persuasi tedeschi a rinunziare a distruggere su vasta scala. Mi pare che, come risulta degli accenni che ho fatto qua e là nella mia narrazione, la polemica sia fuori di luogo perché nel grandioso risultato vi è posto per i meriti di tutti. Io ho espresso il parere che i soli mezzi a disposizione dei partigiani non avrebbero potuto impedire alle truppe tedesche ancora organizzate di compiere le distruzioni. Era quindi opportuno trattare e su questo terreno nessuno più di sua eccellenza, il cardinale Schuster e il monsignore Bicchierai, poteva essere sollecito e attivo, mossi come erano dal pressante desiderio di risparmiare il più possibile danni e disagi. Nello stesso tempo erano intavolate trattative dirette tra gli alleati, signor Dallas a Berna e i tedeschi rappresentati dal colonello Dolman e dal generale Wolf delle SS tramite il barone Parrilli. Le due azioni corsero parallele. Si è visto che se avessimo avuto la possibilità di scortare sicuramente il generale Wolf a Milano la resa sarebbe avvenuta nelle nostre mani tramite l'arcivo e scovato il giorno 26 aprile anziché il 29 nelle mani degli alleati a Berna. Ma a creare lo stato d'animo che si era impadronito dei tedeschi concorreva all'ormai diffuso terrore di essere tagliati a pezzi dai partigiani in un eventuale movimento di ritirata. Timore che già aveva indotto il generale Wolf a cercare contatti con me sin dal mese di febbraio. Io vedevo benissimo l'opportunità, anzi la necessità delle trattative iniziate dalle autorità ecclesiastiche ma nella mia posizione di comandante del CVL non potevo in alcun modo ammettere che si scendesse a patti con i tedeschi se non per accettare la resa. Si deve riconoscere non poco merito anche ai comunisti che furono sempre contrari a qualunque trattativa, a qualunque compromesso, a prezzo di qualsiasi sacrificio affinché la resistenza procedesse con inflessibile volontà e dirittura. Al complesso lavoro di tutte queste iniziative ciascuna di esse operante nel proprio settore si deve il successo e non deve dimenticarsi che l'opera diretta dei partigiani fu provvidenziale laddove per ordine non ricevuti e male compresi i tedeschi si diedero a saccheggi e distruzioni e ciò accadde proprio in quei pochi settori dove il movimento partigiano mancò di prontezza come accadde a Verona dove a opera di pochi pionieri tedeschi furono fatti saltare gli storici ponti della città. Questo in rapidissima sintesi l'attività della nostra lotta. Quale aspetto sia pure sotto certi riflessi negativo? Anzitutto le gravissime perdite di vita umane e beni materiali. In secondo luogo il prosperare di un cattivo seme quello della guerra civile. La divisione tra fascisti e antifascisti già aperta e inasprita durante la guerra divenne addirittura un baratro tra le opposte parti durante il periodo della Repubblica Sociale. Alle differenze di ideologia, di sentimento, di metodi si aggiunsero le offese dirette, azioni e rappresaglie con un crescendo di intensità e di ferocia conosciuto solo dalla guerra civile. La Repubblica Sociale, agonizzante, raccoglieva le sue ultime forze laddove le trovava nei rifiuti della società. Non senza compiacimento degli stessi tedeschi che, desiderosi di mantenere l'abisso tra le opposte sponde, rovesciavano quanto più possibile sugli italiani l'odiosità della repressione, pur poco stimando i loro stessi strumenti, come alla fine dimostrarono chiaramente conducendo trattative col CLN alle spalle dei fascisti. Io ve lo rileggo così da entrare bene in testa per tutti coloro che dicono il contrario. La Repubblica Sociale, agonizzante, raccoglieva le sue ultime forze laddove le trovava nei rifiuti della società. Non senza compiacimento degli stessi tedeschi che, desiderosi di mantenere l'abisso tra le opposte sponde, rovesciavano quanto più possibile sugli italiani l'odiosità della repressione, pur poco stimando i loro stessi strumenti, come alla fine dimostrarono chiaramente conducendo trattative col CLN alle spalle dei fascisti. Questo lo dice Raffaele Cadorna, non lo scrive la Pravda. Altra passività della lotta partigiana fu quella di avere consentito per la forza stessa delle circostanze interne e internazionali al comunismo di reinserirsi nella vita del paese stesso, per sua natura alieno da qualunque estremismo. Dal carteggio che ho pubblicato a Parichiaro come sin dal primo momento io mi sia reso conto del pericolo che correvano di cadere dalla padella nella brace combattendo un totalitarismo a vantaggio di un altro, più integrale ancora e pericoloso. Ma tale era la situazione, allo stesso modo con cui gli alleati occidentali per risolvere la loro guerra dovettero ricorrere all'alleanza con la Russia e dare esca all'imperialismo slavo, vorace quanto quello tedesco e guai a loro se la Russia avesse potuto mantenersi neutrale ed entrare in campo con forze intatte a fine guerra come era nei suoi disegni, così noi stringemmo pienamente consapevoli delle conseguenze, patto di colleganza con i comunisti che nella lotta portavano forze fresche, una organizzazione clandestina temprata dalla persecuzione e soprattutto l'necessaria selvaggia determinazione di dare alla lotta una intensità sempre crescente onde essa potesse continuare oltre alla vittoria degli alleati sino al raggiungimento dei loro particolari obiettivi politici. Il CLN fu il loro principale e prezioso strumento. Alcuni esponenti del partito d'azione e di quello socialista, spinti troppo avanti dal loro temperamento e forza anche dalla particolare atmosfera politica di allora, prima ancora di assumere il loro di borghesi annolo, furono le loro avanguardie e al tempo stesso le loro cortine fumogene. Il resto, metodo, frasari eccetera, si le rivelarono purtroppo quelli già fatti propri dal fascismo, trattandoli dalle deteriori tradizioni della democrazia italiana. A me pare che gli alleati occidentali abbiano perso troppo tempo per affrontare la situazione quale realmente era, per parlare alle dittature di linguaggio che a esse conviene e si siano attardate su illusorie speranze di conciliazione su un piano democratico concedente alle minoranze il dovuto rispetto. Altrettanto è accaduto nell'interno. Io penso che i partiti dell'ordine del CLN, chiamo così i liberali e i democristiani, si siano dopo la liberazione troppo attardati nella formula del CLN, che li portava inevitabilmente a subire il gioco dei comunisti. Così persero molte importanti posizioni e di più ne avrebbero perse se non avessero trovato l'alleanza nella silenziosa tenace macchina della burocrazia, spesso in difesa di posizioni che pur dovrebbero essere superate, ma in questo caso Remora ha sconsigliati sovvertimenti. I liberali poi perdettero anche la clientela che si era dispersa in cerca di più o meno illusori rifugi. Nel CLN questi partiti messi in minoranza avevano dovuto sottoscrivere una quantità di abdicazioni che offrirono al comunismo ottime piattaforme propagandistiche, mentre per loro erano qualche cosa di simile al suicidio. Quindi Cadorna se deve menare i comunisti mena, non è che fa scontri a nessuno, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Si era così convenuto dire che Mussolini e la sua cricca erano reazionari che operavano come strumenti delle classi privilegiate, mentre in effetti Mussolini era un autentico rivoluzionario che dopo aver assestato la situazione interna su una specie di contaminazione plutocratico-demagogica aveva semplicemente trasferito sul terreno della politica, internazionale la sua azione sovvertitrice. Naturalmente per affrontare quella più difficile rivoluzione che la guerra si era servito delle classi abbienti, ora lusingandone i più retorici nazionalismi, ora stuzzicandone gli appetiti industriali, ora deprimendone il loro il non molto coraggio. Non è vero che il fascismo abbia oppresso la classe operaia, che ne trasse invece notevoli vantaggi, fascistizzandosi forse di più di ogni altra soprattutto laddove i comunisti non poterono contrastarne la propaganda. Chi non ricorda i tempi della campagna etiopica, i deliri popolari della giornata della fede? Chi non ricorda i canti, i cagliardetti, gli infiniti cortei cui il popolo partecipava perlomeno con altrettanto entusiasmo di quello che mostrano gli attuali cortei organizzati dai comunisti? Si sanzionò la responsabilità delle classi dirigenti e la irresponsabilità del popolo negli eroi del passato e in nome di questa irresponsabilità, cioè altrettanta incapacità di ieri, si vorrebbe oggi affidargli le retini dello Stato. Invece il fascismo colpì prevalentemente quella parte della classe intellettuale cui le etichette di patriotismo e di ordine non impedirono di vedere la realtà di un regime in balia dell'arbitrio di uno solo. Il fascismo è morto ma la sua pesante eredità rimane, rimane cioè l'immaturità del nostro popolo a vivere una vita democratica sia per mancanza di senso critico sia per mancanza di spirito sociale. Io ve lo rileggo. Il fascismo è morto ma la sua pesante eredità rimane, rimane cioè l'immaturità del nostro popolo a vivere una vita democratica sia per mancanza di senso critico sia per mancanza di spirito sociale. Questo ha scritto nel mio 148 Raffaele Catorna. Il primo difetto lo rende facilmente vittima della propaganda demagogica. Il secondo, cioè il suo esagerato individualismo, lo porta a subire l'oppressione, l'antidoto della licenza. Così si lascia facilmente irrigimentare appena esista una organizzazione che lo liberi dal fastidio di pensare con la sua testa. Le ideologie tendono a essere sopraffatte dalla stessa organizzazione che è necessaria per predisporle e poi diffonderle e farle trangugiare capillarmente. Io ricordo di essermi sempre ribellato allorché i fascisti, specialmente quando andava male e sentivano svanire il favore popolare, agitavano lo spettro del comunismo. O noi o i comunisti. Era il dilemma, posto per tenere a freno la papida, ma recalcitrante e borghesia. Era una specie di ricatto che a quanto sembra la politica dei comunisti vorrebbe ora accreditare, sospingendo i superficiali a nostalgiche quanto pericolose rivalutazioni. Ma io voglio terminare queste pagine con atto di fede nel buonsenso del nostro popolo e dell'avvenire della nazione. Gli avvenimenti di un secolo di lotte per l'unificazione e per l'indipendenza del paese, per la libertà dei cittadini, assumono dopo tante esperienze e in particolare quelle degli ultimi anni un aspetto nuovo. Io credo che, passato questo periodo di disorientamento reso assai più acuto dagli avvenimenti internazionali dei quali certo non rispondiamo, le forze centrifughe si esauriranno e gli italiani si riconosceranno nuovamente legati a un solo destino, seppure con formule amministrative e politiche più aderenti alla realtà sociale. L'attuale concetto di indipendenza, potendosi ormai dire salvo all'unità che gli scossoni passati hanno corso il rischio di compromettere, non è evidentemente lo stesso che mostri i nostri avi all'alba del secolo scorso. L'interdipendenza delle nazioni e sotto certi aspetti l'aumentata dipendenza dei deboli dinanzi ai forti è conseguenza sia delle moderne e rapide comunicazioni che avvicinano la pressione degli astri di prima grandezza, sia dell'eccessivo spezzettamento e indebolimento economico prodotto dalle esasperazioni che speriamo superate del principio di nazionalità inteso spesso in senso economico. Oggi nessuno può dirsi veramente indipendente e meno che mai un paese come il nostro, chiamato a risolvere la maggior parte dei problemi suoi propri in necessaria collaborazione con gli altri paesi, soprattutto europei. Per fortuna possiamo dire che negli italiani non mancano naturali doti di armonizzazione che quindi anche noi potremmo dare il nostro prezioso contributo ai problemi del mondo. Si tratta di conquistare e tenere la maggiore e più intima indipendenza possibile oggi e cioè la libertà di governarci secondo le nostre aspirazioni, il nostro temperamento, i nostri naturali interessi. Ed eccomi a concludere parlando di quella libertà per la quale tanti italiani hanno combattuto pur non sempre concorti sulla sua sostanza. La libertà alla quale io penso è che trova vita gloriosa e benefica in tanti paesi del mondo occidentale e circoscritta dall'imperio della legge liberamente discussa. Essa trae vita soprattutto nel senso del limite che il cittadino sente in sé e impone alle proprie iniziative non dimentiche della necessità di un ordinato svolgimento della vita sociale e politica. Con un carattere esasperatamente individualistico come il nostro una simile concezione può essere che il frutto di una paziente educazione politica che non dall'alto e tanto meno dalla forza potrà trarre origine ma dovrà essere raccolto lungo il difficile cammino di una lotta politica rispettosa di quei principi di democrazia che almeno in teoria sembrano essere noti a tutti. Un secolo fa Massimo D'Azeglio scrisse che l'Italia era fatta ma correva fare gli italiani. Quale progresso è stato fatto su questa via? Le difficili esperienze passate non sono certo state vane. Il suffraggio universale, la proporzionale, le grandi organizzazioni di massa, sindacali e politiche hanno immesso nella circolazione sempre più vasti strati di interessi e di opinioni. Se quindi si è perso in qualità nei cittadini dirigenti, si è guadagnato in quantità e il processo di qualificazione delle masse potrà felicemente compiersi se la fortuna degli italiani e del mondo vorrà assicurare un lungo periodo di pace. Allora, il video è durato più di 34 minuti, siamo ormai veramente alle soglie dei 35 e non vorrei dare altri commenti anche perché le parole di Raffaele Catorna sono assolutamente cristalline nella una descrizione corretta, multiforme nei giudizi. Se deve accusare qualcuno, accusa qualcuno senza nessun pregiudizievole di sorta, da probabilmente a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio e io vi rinnovo l'auspicio, l'invito a leggerlo questo libro perché è veramente un libro ricchissimo di informazioni e ricchissimo di moralità. Una moralità che si è creata nel periodo 43-45 come riscossa, la riscossa contro l'abbrudimento della politica, della società e che dovremmo riprendere e riscoprire dopo così tanti decenni. Quindi io vi invito a leggere questo libro perché è una pietra miliare della nostro Stato, della nostra condizione di democrazia e libertà. Con queste due parole, democrazia e libertà, ricordando di festeggiare sempre il 25 aprile perché è la festa di tutti, la festa della riscossa di tutti quanti, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!